Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo «Come avverrà questo poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio». «Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. «Pace e bene, ancora insieme carissimi tutti che ci seguite su Padre Pio TV per un appuntamento straordinario con il Signore dei giorni. Nel cuore del tempo forte dell'Avvento, la liturgia ci fa sostare dinanzi all'icona perfetta della Chiesa, che è la Vergine Maria. La solennità dell'Immacolata Concezione racchiude come in uno scrigno la bellezza straordinaria di una donna chiamata ad essere la madre di Dio, di una donna chiamata per certi versi a corredimere insieme col figlio suo, frutto benedetto del suo seno, di una donna chiamata ad essere madre della nuova umanità della Chiesa di Cristo. La prima lettura che propone la liturgia in questa solennità è tratta dal libro della Genesi e parla della prima donna, Eva, madre del genere umano, madre di tutti i viventi, che si lascia però sedurre dal serpente e coinvolge anche Adamo nell'atto di disobbedienza a Dio. La donna che tu mi hai posto accanto, risponde Adamo a Dio, mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. E così a Dio che chiede ad Eva che cosa avesse fatto, Eva risponde, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Dio maledice il serpente e stabilisce una sorta di inimicizia fra la donna e il serpente. Ma a quest'atto di disobbedienza corrisponderà poi un atto di obbedienza e di fedeltà da parte di un'altra donna, la nuova Eva. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E la risposta della Vergine Maria all'Arcangelo Gabriele che le porta all'annuncio della sua maternità. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. La Vergine Maria allora si pone nella giusta prospettiva, nell'atteggiamento corretto dell'obbedienza a Dio. Come il comportamento di Eva allora ha coinvolto tutto il genere umano. Così la risposta personale di Maria, il suo Fiat, riguarderà l'umanità intera. Che proprio in Maria troverà il modello vero di vita cristiana. E la madre che indica la strada per andare dal figlio suo. Il Natale si avvicina, carissimi amici. Fermiamoci a contemplare colei che si è lasciata sedurre con docilità dall'amore di Dio. Accogliendo il dono della maternità divina e portando in grembo l'atteso di tutti i tempi. A lei vogliamo anche affidare il nostro cammino pieno di insidie e di tentazioni perché sappiamo reagire al male e aprirci sempre di più al dono dello Spirito Santo capace di fecondare in ciascuno di noi frutti di speranza e di vita nuova. Buona festa dell'Immacolata. Pace e bene. Grazie a tutti.